Ecco, avete concretizzato l'acquisto dell'auditorio? Allora, non è un vero e proprio acquisto, è un trasferimento a scomputo di un forte debito che la società Arezzo Fieri Congressi aveva col Comune di Arezzo per IMU e per ICI. Il debito era complessivamente intorno ai 3 milioni di euro, poi c'era un altro debito legato alla costruzione di uno svincolo stradale che consente l'accesso direttamente all'area feristica e quindi complessivamente erano 4 milioni e 2. Questo credito per il Comune, debito per loro, che penso mai saremmo riusciti a recuperare in termini monetari, abbiamo avuto l'idea di tradurlo in un'acquisizione di immobili e in un aumento di quota capitalia. Per cui abbiamo acquisito al nostro patrimonio immobiliare del Comune di Arezzo l'auditorium. Perché l'auditorium? Perché l'auditorium è quello che può in meglio di altre realtà edilizie dell'azienda darci un servizio, perché lo possiamo utilizzare per la musica, per il teatro, per gli eventi sociali, per tutto quello che oggi può significare un auditorium da 800 posti frazionabile a disposizione. Tra l'altro molto bello, molto charmant. L'altra cosa è l'aumento capitario, per cui il Comune che aveva circa il 12% di quote con l'aumento di capitale che viene in realtà sottoscritto gratuitamente dal Comune di Arezzo in quanto creditore nei confronti della società passa a qualche cosa che sfiora il 18. Quindi il peso del Comune di Arezzo dentro Arezzo-Ciara e Congressi diventa oggi più importante. Credo che sia un bene, perché quella struttura di cui gli altri soci sono Regione Toscana, Provincia e Camera di Commercio ha una destinazione importantissima che è quella di pubblicizzare, di rendere noto, di valorizzare le produzioni locali, una per tutte, le produzioni orafe. E quindi il fatto che il Comune, che quindi rappresenta la città, abbia una quota più importante, secondo me è un fatto positivo per tutti. E quindi sono molto contento questa sera.